Anzi siamo stati il partito che per primo ha puntato il dito contro un eccesso di spesa pubblica che non riguarda soltanto la spesa pubblica nazionale ma un eccesso di costi legati alla burocrazia e alla politica per cui lasciamo da parte le misure demagogiche perché di demagogia ne abbiamo abbastanza però se si tratta di fare un cammino virtuoso, non demagogico appunto ma sostanziale per ridurre anche i costi delle istituzioni comunitarie benvengano.